Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Italicum si dà il Senato al super canguro tagliati 35.000 emendamenti. Quirinale patto Alfano Berlusconi per un candidato comune. Francia annunciate nuove misure antiterrorismo. Il Senato ha approvato l'emendamento esposito che recepisce l'Italicum 2. I voti a favore sono stati 175, 110 i contrari e 2 gli astenuti. A seguito della votazione sono quindi preclusi 35.000 emendamenti sui 47.000 presentati. L'Aula aveva precedentemente bocciato entrambi gli emendamenti gotora alla legge elettorale. Fronte comune per presentare a Renzi un candidato al Quirinale. Alfano annuncia che Forza Italia e Area Popolare si sono messi d'accordo per cercare una personalità condivisa per il Colle, ma, a sicura, non è stato fatto nessun nome. Abbiamo stabilito, continua il ministro dell'Interno, di valutare sempre insieme la candidatura proposta dal PD. A due settimane dagli attacchi di Parigi, in cui sono rimasti uccise 17 persone, il premier francese Valls annuncia le nuove misure contro il terrorismo. Potenziamento degli organici, in particolare dei servizi di sicurezza, considerata l'urgenza prioritaria. E prevenzione di altri attacchi giadisti con più lavoro fra i giovani a rischio e nelle carceri. Non ricorrere più, se non in caso di emergenza, all'assegnazione di appalti senza gara. È la prima norma contenuta nelle nuove linee guida sulle gare presentate in Campidoglio dal sindaco di Roma Marino. Previste inoltre la rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici e la pubblicazione sul sito web del Campidoglio di tutti gli atti delle gare. Si riunirà giovedì il consiglio direttivo della BCE, che secondo le attese potrebbe annunciare il valo del quantitative easing, acquisto massiccio di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea. Secondo alcuni economisti può alleviare le pressioni sui mercati dei titoli di Stato, secondo altri invece funziona solo se permette agli Stati di spendere di più per creare redditi e posti di lavoro. Sarà le meraviglie d'Italia il filo conduttore della ventottesima edizione del Salone del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio. Ospite d'onore la Germania, presente con un grande stand interattivo e oltre 20 autori pubblicati in Italia. Tra le regioni del bel paese, ospite d'onore sarà il Lazio.